Che si fa la libertà? Buonasera Vi aggiorniamo per quanto concerne la programmazione di venerdì sera, primo febbraio Alle ore 21 in Eurovisione andrà in scena la pizzata dei pazzi, direi vi I pezzi di pizza a pezzi per i pazzi, qualcosa del genere Alle ore 20 ci troveremo al pizzeria, caffetteria, pasticceria 3.14 Dove? A Casarollo, via Libertà, 6 Dalle ore 20 alle ore 23, 23, 30, 24, 1, barra 2 A presto, buona serata